Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria. Vi riferiamo dell'operazione di polizia eseguita la scorsa notte a Gela. Quattro persone arrestate dedicate allo spaccio di droga. Per la prima volta in città è stato disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti di un indagato per stupefacenti, il presunto capo della banda. Vediamo. Sono stati pedinati, intercettati per parecchio tempo. La scorsa notte sono stati arrestati e reclusi in carcere. Operazione antidroga Gela con quattro arresti. Le manette sono scattate ai possi di Emanuele Brancato, 33 anni, ritenuto il capo dell'organizzazione, Giovanni Simone Alario, 29, Diego e Giovanni Nastasi, di 50 e 25 anni, tutti gelesi. Ci sono anche sei indagati. I provvedimenti restrittivi sono stati firmati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, Palofiore, su richiesta dei sostituti procuratori Antonio D'Antona, da poco trasferito a Trapani, e Eugenia Belmonte, della locale procura, alla cui guida è stato nominato il procuratore Fernando Asaro, attualmente coordinata da Lara Secchacini. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dagli agenti di polizia della locale commissariato, ai ordini del dirigente Francesco Marino e da quelli del commissariato di Niscemi, guidato da Andrea Monaco. Gli stessi investigatori durante il blitz denominato Samarcanda hanno sequestrato diversi beni nella disponibilità di Emanuele Brancato, volto sconosciuto nel panorama giudiziario e soprannominato Jimmy per la sua prestanza fisica. Brancato utilizzava schede telefoniche sospette intestate ad uno degli indagati. In merito al sequestro sono finiti sotto chiave beni mobili, tra i quali auto, polizze assicurative e conti correnti. E' la prima volta a Gela che viene disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti di un indagato per stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, la droga, soprattutto cocaina, veniva acquistata in Calabria e poi rivenduta nelle piazze di Gela. In gente il giro d'affari scoperto. Abbiamo cercato, ed è questo lo sforzo che stiamo ultimamente compiendo, di struncare proprio alla base il fenomeno dell'autofinanziamento. Purtroppo c'è la percezione, da ultimo anche in questa città, che il fenomeno dello spaccio di stupefacenti possa essere anche quasi un fenomeno sociale, di lecito, o meglio, di lecito chiaramente, ma come alle fonte proprio economica di finanziamento. Quindi cerchiamo anche con le misure reali di struncare alla base questo autofinanziamento dell'attività criminale. Perché al di là della pericolosità in sé dell'attività di spaccio, c'è anche questo ulteriore profilo, ulteriormente appunto, che crea allarme sociale, proprio perché si, in questo modo, finanziano altre attività illecite. Ci sono dei soggetti che hanno favorito, agevolato questa attività criminosa, con le proprie competenze tecniche e che servivano a portarvi lontano dal nome reale di un soggetto incensurato. Sì, direi che proprio questo evidenzia proprio la capacità criminale di questi soggetti. Non hanno avuto alcuna remora nella ricerca sia delle microspie che erano state appunto piazzate all'interno delle abitazioni e delle autovetture. In una ricerca proprio quasi spasmodica delle stesse, sono riusciti anche a disattivarle, in questo modo anche a impedire un utile svolgimento delle attività di intercettazione. Ma ciò che preme ulteriormente evidenziare è anche il fatto che erano gli stessi indagati dotati di un particolare macchinario che a sua volta serviva a disturbare le attività di intercettazione, tant'è che è stato contestato anche l'articolo 671 bis del Codice Penale. E l'operazione della scorsa notte è stata illustrata nei particolari durante la conferenza stampa che si è svolta in commissariato. C'era per noi Fabiola Polara. Dottore Marino, la quantità di stupefacente della qualità della tipologia cocaina veniva acquistata in Calabria ma ci sono dei collegamenti con la Germania e uno dei soggetti infatti è proprio risultato irreperibile perché risiede in Germania. Ora valuteremo se oltre al viaggio che abbiamo monitorato dell'arrivo a Gela di alcune dose di cocaina dalla Germania si è trattato di fatalità di puro caso oppure anche da lì ci poteva essere un canale, ripeto sono supposizioni investigative, la certezza è che l'approvvigionamento avveniva in Calabria, zona comandata dall'Andrangheta e perciò per avere questo paspatuo per poter andare là significa che il brancato malgrado l'incensurrezza aveva contatti di primissimo livello per condurre questa lucrosa attività illecita. Si aspettano risvolti significativi nei prossimi mesi? Sicuramente stiamo sviluppando tutti gli indizi che sono rimasti alla fine della misura perché reputiamo che sia un canale investigativo molto molto interessante. È stato stanato il vertice dell'organizzazione perché poi c'erano degli spaziatori di medio livello che andavano a rifornire i vari quartieri della città quindi un'organizzazione con una rete consolidata. Parliamo di gruppo, un gruppo criminale con compiti ben chiari assegnati allo Stato scollegato dai clan storici gelessi. Operazione San Marcanda, tutto parte dal giugno del 2015 con un sequestro e avete intercettato un'attività illecita relativa allo spaccio di stupefacente nell'agro di Butera. L'indagine è partita da un sequestro di 3 kg di marijuana effettuato nell'agro di Butera nel giugno 2015 ed esattamente un anno dopo arriviamo alla conclusione di questa operazione che ha visto l'individuazione di un soggetto a capo di un ingente giro di spaccio di sostanze stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina, coadiuvato appunto da pusher e quindi da spacciatore al minuto e da un altro cosiddetto compare che attualmente non è stato possibile rintracciare destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere proprio attivi nello spaccio di ingenti quantitativi di cocaina che appunto andavano a rifornire nelle zone del Calabrese e in particolare del Regino. Che operazione è stata da un punto di vista soprattutto dei collegamenti con i sequestri patrimoniali? Auspicabilmente e che ci auspichiamo possa ripetersi per il futuro relativamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti è stata la possibilità di addivenire all'applicazione di una misura cautelare reale quale il sequestro di beni, provvedimento peraltro che molto spesso non è stato possibile raggiungere ed ottenere relativamente a questo fenomeno criminale e che appunto il dottore D'Antona è riuscito a intravedere ed è riuscito a raggiungere per cui ci auguriamo che il perfezionamento dell'operazione apprensiva di questi beni sia quanto mai vicino e che possa, ripeto, e ne auspichiamo ulteriori esiti anche per indagini future. Cambiamo argomento e parliamo delle iniziative messe in campo dai comitati e dai sindaci in merito al passaggio di Gela, Piazza Almedina e Niscemi alla città metropolitana di Catania e di Licoria e Obea alla Libero Consorzio di Ragusa. La regione siciliana, hanno detto, sta giocando contro la volontà popolare. Sentiamo. Avete inoltrato anche delle diffide da adempiere? Sì, abbiamo inviato delle diffide non solo come comitati ma anche le amministrazioni hanno inviato ognuno per ogni amministrazione una diffida nei confronti del Presidente della Regione e dell'assessore regionale agli enti locali ad Ardizzone e anche al Presidente, al Sindaco metropolitano di Catania per appunto avvisarli di fermarsi nell'indire le elezioni dell'ente intermedio perché fin quando Gela, Piazza Almedina e Niscemi e Licoria di Obea non hanno concluso il loro iter di trasferimento le elezioni in Sicilia non si possono indire e quindi noi saremo pronti, qualora loro avessero intenzione di farlo, a bloccare queste elezioni. Noi bloccheremo le elezioni dell'ente intermedio quindi è bene che la Regione sappia il rischio che sta accorrendo nel giocare perché stiamo giocando ed è vergognoso nei confronti e nel rispetto di tutti i siciliani continuare a fare queste cose. Stiamo giocando con una vicenda che è democraticamente chiusa. I sindaci dei tre comuni stanno semplicemente chiedendo che venga rispettata la volontà popolare, plebiscitaria. Senza entrare nel merito di ogni singola motivazione o convinzione, di fatto è un atto che comunque alla fine qualcuno sta cercando dopo che ha fatto le regole di nuovamente mischiare le carte per impedire quello che hanno deciso le comunità. Quindi è un paradosso che sinceramente è un'offesa a queste comunità che hanno perso una decisione con degli atti ufficiali fatti sia dall'amministrazione ma dai consigli comunali e dagli stessi cittadini tramite un referendum. Di conseguenza la cosa effettivamente ha una gravità notevole perché significa la morte della democrazia perché la democrazia vuol dire che il popolo può decidere. Io aspetto che mi nomino un commissario per stabilire il passaggio di Niscemi con l'area metropolitana oppure che dica no, un commissario praticamente. Questo è quello che riesce a fare la politica in questo momento. Una cosa è certa comunque. Oltre alla Costituzione per vedere come è possibile far rispettare le regole io già ho predisposto gli atti per chiedere i danni e quindi domani la delibera è pronta. Delibererò per vedere se ci sono le condizioni per farmi ripagare dei danni ricevuti come immagine da parte dell'Assemblea regionale. Il popolo di quattro comunità ha deciso una possibilità, un'opportunità che la legge stessa determinava. Si è espresso con due consigli comunali, si è espresso con un referendum e sentiamo queste situazioni che davvero hanno a ben poco a che fare con la democrazia. Allora proprio perché viviamo in un paese democratico e crediamo alla democrazia noi lotteremo affinché la democrazia venga rispettata e venga rispettata la volontà dei nostri cittadini. Non si può modificare una volontà che da parte di pochi quando la maggioranza invece ha deciso un passaggio. Sembra finita la vicenda dei pagamenti per i tirocinanti siciliani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani dopo mesi di attesa, infatti sembrerebbe che gli 800 giovani gialesi iscritti al progetto potranno ricevere la retribuzione. Lo stop ai pagamenti era dovuto al fatto che la regione aveva esaurito i fondi disponibili per retribuire tutti i ragazzi che avevano svolto lo stage nel periodo ottobre-aprile. Alcuni dei tirocinanti erano riusciti a ricevere una parte dei soldi mentre altri erano rimasti in attesa di ricevere tutte le mensilità. Il caso era scoppiato qualche mese dietro quando l'Inps aveva rispedito all'assessorato i plichi contenenti le pratiche dei tirocinanti. Qualcosa, dice Salvatore Camiolo, segretario locale dell'associazione Codici, nel meccanismo del progetto che voleva contribuire alla costruzione di un futuro solido anche per i giovani, non ha funzionato. L'errore sarebbe stato quello di accettare tutte le richieste di tirocinio e per questo i fondi non sono bastati. Salvatore Camiolo esprime soddisfazione per la vicenda che finalmente sembra avviarsi a soluzione dopo mesi di battaglie e continuo monitoraggio. Costruttori e avvocati pronti a collaborare, Ance e Aiga, assieme per rafforzare un rapporto già avviato da mesi dai presidenti Roberta Vitale e Michele Vaira. La collaborazione è stata sancita nel corso di un evento organizzato dall'Aiga per il proprio cinquantennale. A rappresentare l'Ance, il vicepresidente Angelo Turco, che ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione è esposto il proprio pensiero riguardo allo stereotipo del rapporto impresa-avvocato unicamente basato sulla risoluzione di vicende legali, ribadendo la necessità di evolvere il rapporto in una più costruttiva collaborazione fatta anche e soprattutto di confronti, consulenze e studi comuni sulle normative di riferimento. A San Cira la collaborazione è la soddisfazione dell'avvocato giolese Nicola Nicoletti, componente di Giunta Nazionale Aiga e presidente della sezione locale. è presente all'evento e che ha contribuito fattivamente alla sua organizzazione. Il legale giolese ha espresso forte entusiasmo per l'intesa che anche in ambito locale produrrà effetti di sicuro rilievo per un sempre più fruttuoso e moderno approccio da parte dell'imprenditoria verso l'avvocatura anche in ottica generale mediante l'organizzazione di eventi formativi aperti al territorio. Sono pronti ad attuare qualsiasi forma di protesta anche eclatante e se non avranno alcuna risposta da parte del presidente della regione, il giolese Rosario Crocetta, in merito alle condizioni di assoluto abbandono in cui versa danni il porto rifugio. Loro sono i componenti del comitato del porto, hanno atteso in vano gli interventi promessi dal governo regionale, ma finora nulla. Ieri in municipio hanno avuto l'ennesimo incontro, c'erano il vice sindaco Simone Siciliano, i consiglieri comunali Luigi Di Dio, Enzo Cilignotta e Salvatore Scerra, il presidente del comitato Massimo Livoti e i segretari Ascanio Carpino e Antonio Adragna. Sul tavolo del confronto, come dicevamo, l'emergenza porto. L'esponente della giunta messinese, che ricopre la carica di assessore allo sviluppo economico, ha ribadito che l'iter del finanziamento per i lavori dell'infrastruttura portuale è bloccato perché la regione non ha ancora convocato la conferenza dei servizi alla presenza del comune di Gela e dell'Eni per apporre la firma sul finanziamento. Un freno tirato a mano. L'amministrazione comunale, ha ribadito siciliano, ritiene fondamentale l'avvio dei lavori, ma se da Palermo non ci sentono, tutto rimane nel limbo. Un'anime dunque la volontà di sollecitare il governatore Crocetta a fare qualcosa immediatamente. Il consigliere comunale di Reset 4.0, Luigi Di Dio, ha chiesto la convocazione di un tavolo prefettizio immediato che metta assieme tutti i soggetti coinvolti per chiarire le responsabilità e sbloccare l'opera. Più volte i rappresentanti del comitato e di altre associazioni che lavorano al porto hanno sottolineato che con i semplici proclami non si liberano le barche da un porto insebbiato e non si realizzano le condizioni minime di sicurezza. Vogliono solo lavorare. Da subito. Il 17 e 18 giugno prossimi dalle 9 presso l'auditorium del Presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Di Gela si darà un seminario di studi sulla gestione dei centri di accoglienza per immigrati presieduto da Vincenzo Cascio, direttore scientifico in collaborazione con la Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. Con questo seminario ci si perfigge di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità quali i centri di accoglienza per immigrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria. Il seminario, patrocinato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia consentirà ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi professionali. Ci fermiamo. Linea allargia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale capriamo parlandovi dell'iniziativa promossa dalla Lions Club di Gela che permetterà alla cooperativa degli ex detenuti di ripulire il giardino dell'Acropoli. Abbandonato e ricettacolo di rifiuti di ogni genere sarà ripulito nelle prossime ore dalla cooperativa sociale ex detenuti di Gela. Stiamo parlando del giardino dell'Acropoli adicente al Museo archeologico regionale. L'area, così come dimostrano le immagini, è degradata in ogni dove. Grazie al Lions Club Gela, presieduto dall'avvocato Tonino Gagliano, che ha ricevuto dall'amministrazione comunale l'affidamento del giardino, i fratelli Rocco e Angelo Bassora si metteranno al lavoro al fine di ripulirla. Una forma di riscatto sociale per chi negli anni si è macchiato di diversi reati e ha scontato i propri conti con la giustizia. Noi daremo come il massimo il nostro contributo a pulirla e spero che dopo che finiscono questo l'amministrazione comunale e il sindaco ci danno la possibilità di lavorare anche a pulire Gela, il mio paese. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una ulteriore mano d'aiuto al comune. Questa è una possibilità che noi chiediamo della massima umiltà perché ci sono padri di famiglia come me che hanno bisogno di lavorare però non hanno la forza di parlare della televisione e non hanno lo spirito combattivo, quello mio. E hanno la speranza che io gli do il lavoro. Io chiedo all'amministrazione comunale veramente con tutto il cuore se ci può dare una mano a vivere onestamente noi non chiediamo niente noi chiediamo solo mezza giornata di lavoro e non uno stipendio uno stipendio sa che cosa con 6-700 euro al mese noi possiamo vivere con la massima serenità e tranquillità noi chiediamo questo. Noi possiamo fare qualsiasi lavoro a parte questo possiamo fare il lavoro dell'edilizia della metameccanica di pubblicità di bianchini possiamo fare tutto tutti i lavori che ci sono li possiamo fare e noi li faremo sempre al meglio e daremo il massimo. Il passato è stato riposto nel dimenticatoio bisogna guardare solo avanti. Ora sono padre di tre figli e capisco gli errori che ho fatto certo ora parlo di una persona di 44 anni gli errori io li ho fatti a 18-20 anni mi mancava tutta l'esperienza e non avevo l'esperienza che ho oggi e oggi capisco veramente che cosa significa sbagliare che cosa significa fare le cose giuste e un consiglio che diamo ai giovani che purtroppo delingono io un consiglio che do ai giovani di non sbagliare e di pensare veramente di vivere onestamente perché c'è tutto da perdere. Sarà presentato venerdì 17 giugno alle 19.30 presso l'Eschilo Lab a Gela il libro Camicette Bianche di Esther Rizzo converserà con l'autrice Evita Lorefice. Da luogo dimenticato a spazio dedicato allo sport e all'arte quella da strada si inaugura così la pista di pattinaggio di via Rochester risorgendo dalle sue generi e tutto questo grazie al lavoro di squadra di Alessandro Ciulla Silvia Macaluso Federica Ciulla Francesco Macaluso e Mirco Pinto della Street Factory Eclettica vincitori del concorso regionale di idee Boom Polmoni Urbani 8 i mesi necessari per trasformare un luogo che si appresta a diventare un campo sportivo e uno spazio dove dare libero sfogo all'arte e alla creatività Un grande passo in avanti che altro non è che la realizzazione soltanto di una parte del progetto e cioè la prima tranche delle tre da 40.000 euro finanziata dagli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Quello di Calteviset è un polmono urbano che è interessantissimo si sviluppa su 3.000 metri quadrati è in global sport arte tutta quella che è praticamente l'energia e la frizzantezza che poi i giovani ci mettono quando fanno le cose e quindi diventa paradossalmente laboratorio di idee di discussione nel quale fare nascere progetti per migliorare anche la nostra comunità questa è una cosa molto bella e finalmente insomma riusciamo davvero a parlare anche una lingua del tutto nuova nella nostra città io sono stato proprio stamattina a Favara la Farm Cultural Park è ormai diventata un punto di riferimento per quella città che ormai conta più di 30.000 visite turistiche in un anno perché no qui a Calteviset il polmono urbano di eclettica potrebbe diventare il punto di riferimento e fra 5 anni magari potremmo avere tanti piccoli polmoni urbani dislocati nel centro storico che cominciano a migliorare la qualità e l'attrattiva anche della nostra città in chiave turistica nasce tutto a volte da idee di qualcuno che qualcun altro definisce folli e qualcun altro definisce geni secondo me sono delle ottime persone abbiamo dato in mano i nostri soldi alle persone giuste e io sono molto contento basket ok su prato orti urbani e un mercatino vintage sono state soltanto alcune delle attività da strada che hanno regalato un eclettico sabato sera a tutti gli amanti della street life una notizia di sport calcio Daniele Pandolfo non è più il portiere del Gela la decisione di interrompere il rapporto è arrivata ieri ed è stata comunicata dalla società bianca azzurra al giocatore a Pandolfo si legge in una nota va il più sentito e effettuoso ringraziamento per questi due anni bellissimi vissuti assieme e ricchi di successo al giocatore chiude la nota va un caloroso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera calcistica teatro sotto le stelle all'antitolo di Gela tutti gli spettacoli si daranno all'aperto si comincia venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso è di 5 euro a coppia ricordiamo che nel calendario è prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti